Il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio sta valutando la possibilità di emettere un'apposita ordinanza che prevede la chiusura degli esercizi commerciali in occasione delle festività del primo maggio e del 25 aprile. La richiesta, provenuta dai lavoratori del settore, è oggetto già ad alcuni giorni di un confronto tra il primo cittadino e i sindacati. Ieri peraltro durante la videoconferenza dei capigruppo, Mancini, Fabrizio e Fantozzi hanno avanzato al sindaco la medesima richiesta, aggiungendo all'istanza anche la riapertura dei due cimiteri comunali pur nel rispetto delle misure previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'assessore al ramo Linda Dall'Olio sull'argomento ha però spiegato che l'amministrazione non avrebbe voluto chiudere i cimiteri, tant'è vero che in un primo momento era stata emanata un'ordinanza che più semplicemente riduceva gli orari e contingentava gli ingressi, comprendendo l'importanza sotto l'aspetto emotivo di far visita ai defunti per i cittadini di Isernia. Purtroppo però la circolare del Governo nazionale ci ha imposto la chiusura di entrambi i cimiteri e dobbiamo attenerci, nostro malgrado, alle indicazioni provenute da Roma, nella speranza, ha concluso l'assessore Dall'Olio, che dal 4 maggio la situazione possa normalizzarsi.